La comisana Peppula Salvo sul podio del prestigioso premio letterario dedicato a Villa Morosini in provincia di Rovigo. Il romanzo La memoria dei sentimenti infatti ha vinto il secondo premio della manifestazione che vantava una giuria di peso ad essere premiata la narrazione del sentimento fortissimo che ha legato i protagonisti dell'opera letteraria lungo tutta una vita. Parlare d'amore oggi è una cosa estremamente moderna, i ragazzi vogliono solo sentire storie d'amore, della storia vera e propria in effetti è triste dirlo, si interessano marginalmente giusto per avere un voto a scuola e anche quello ci viene strappato. Però il sentimento è quello che vince sempre, specie quando poi la narrazione del sentimento è fatta in maniera pulita. La memoria dei sentimenti è in parte un romanzo autobiografico, narra la storia della famiglia e l'autrice che si intreccia con la grande storia della seconda guerra mondiale e in particolare la guerra degli italiani in Grecia. E' proprio in Grecia che il padre dell'autrice e tenente medico conosce Gheorgia, se ne innamora la porta con mille difficoltà nell'Italia liberata ma distrutta a Comiso per dare inizio a una nuova famiglia.